La nostra emittente ha terminato la produzione di Trincee, un docufilm suddiviso in quattro capitoli realizzato da Dolomiti Production e ambientato nei luoghi del Cadore dove si combatté la prima guerra mondiale. Il docufilm, nato da un'idea dello storico Giovanni De Donà, racconta ardimenti e sacrifici di uomini che, prima di morire, erano costretti a soffrire, a resistere al nemico, al freddo, ai pidocchi e alla fame. Narra di cappellani militari che assistevano i feriti, di donne tenaci che rifornivano le linee al fronte, di soldati che su queste montagne, per sfuggire alla morte, erano pronti a menomarsi utilizzando metodi rozzi con conseguenze talvolta drammatiche. Trincee verrà presentato in anteprima al pubblico in due date, venerdì 17 marzo alle ore 20.45 al Cinema Piave di Santo Stefano di Cadore e venerdì 24 marzo alle ore 20.45 all'auditorium del Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore. Da aprile sarà trasmesso anche sulla nostra emittente e su Dolomiti Live TV. Grazie per la visione!